Turisti sì, ma solo per Pasqua. A parte il picco del prossimo weekend che prevede il 70% di posti letto occupati, la situazione per Venezia si sta facendo critica. Rispetto al 2008, nei primi mesi di quest'anno, le presenze sono calate del 30% e le prenotazioni per i prossimi mesi non lasciano ben sperare. Per i ponti del 25 aprile e del primo maggio, i prenotamenti negli hotel arrivano a coprire il 25, massimo 35% dei posti disponibili. Sì, abbiamo questo picco della Pasqua, però si limita sicuramente al venerdì e al sabato. Sicuramente non sono più quei periodi dove nuovamente avevamo prenotazioni per 3-4 giorni. Ecco, chi sono i turisti che arrivano oggi a Venezia? Prevalentemente sono europei. Abbiamo fortunatamente moltissimi italiani, ma anche come sempre in questi ultimi anni gli americani. Tutti gli asiatici vengono a Venezia, ma non dormono a Venezia, perché dormono tutti sulla gronda veneziana. Intanto il calo di turisti comincia ad avere ripercussioni anche sul piano occupazionale. Nessun licenziamento per ora, ma ci sono circa 5.000 lavoratori stagionali del comparto alberghiero, della ristorazione e del commercio che rischiano di restare a casa, ovviamente senza cassa integrazione e se non lavoreranno per almeno 6 mesi di seguito, anche senza indennità di disoccupazione. Ecco perché ieri la CGL ha chiesto al sindaco Massimo Cacciari di convocare subito dopo Pasqua un tavolo di monitoraggio del settore. Nel frattempo l'idea che in tanti cominciano ad accarezzare è che si debba tornare alla stagionalità, d'inverno cioè alberghi chiusi. Diciamo che una volta a Venezia era stagionale, molti alberghi chiudevano, negli ultimi 15-20 anni si lavorava benissimo anche l'inverno. È evidente con questo numero sproporzionato in questo momento di posti letto, è evidente che alcune aziende chiuderanno per l'inverno.